Se non avessi fatto l'artista comunque con la mia fantasia eccetera avrei optato sul mondo dell'arredamento perché è proprio una passione innata che ho perché sono una donna che vive anche la casa, sono anche una casalinga come è dimostrato appunto a me piace molto cucinare, fare la spesa eccetera e mi occupo della mia casa cioè mi piace che la casa per esempio non sia mai finita ogni giorno, magari non ogni giorno, però molto spesso gli do la nota di cambiamento così e quindi sono molto attenta alla tecnologia, alle cose che avanzano, i nuovi prodotti ed è per questo poi che ho sposato questa azienda che mi segue e soprattutto sostiene le mie avventure Anna Falchi non nasconde e anzi svela le proprie passioni per il gusto e la ricercatezza nell'arredamento lungo il tour dei sapori targato Nuovo Arredo la testimonial e la chef Palma Donofrio hanno dato vita così ad un nuovo show cooking nell'ambito della fiera alla mia casa di Gravine in Puglia un'esperienza tra i fornelli per sperimentare anche una delle cucine della innovativa e altamente tecnologica Linea Nuovo Arredo Kitchen è un forno che arriva alla temperatura di 320 gradi quindi ci consente di fare la pizza come quando siamo seduti in pizzeria 5 minuti e avremo la pizza pronta in tavola calda, fragrante non solo innovative e funzionali cucine sono tante le novità presentate da Nuovo Arredo negli stand allestiti nell'ambito della fiera di Gravine in Puglia abbiamo questi due grandi stand dove potete trovare diversi modelli di cucina con la linea Nuovo Arredo Kitchen e anche per la prima volta presentiamo Atom che è un micro mini appartamento poi offriamo innumerevoli servizi, abbiamo degli sconti dedicati per tutti i visitatori della fiera in più sul nostro sito potete trovare L'architetto risponde e Zero Passi proseguirà gli appuntamenti con i vari show cooking in diversi punti vendita tra la Puglia, Basilicata e Toscana